Cosima e Sabrina Misseri sono state rinviate a giudizio dal GUP del Tribunale di Taranto per l'omicidio di Sara Scazzi, uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010. Sono nove i rinviati a giudizio decisi dal giudice delle udienze preliminari Pompeo Carriere. Tra i rinviati a giudizio, Michele Misseri, attualmente libero, la moglie Cosima Serrano, la figlia Sabrina, entrambe in carcere a Taranto, Carmine Misseri, fratello di Michele e i nipoti di quest'ultimo, Cosimo Cosma. Cosima Serrano e la figlia Sabrina rispondono di omicidio, Michele Misseri di concorso in soppressione di cadavere. Il corpo di Sara fu infatti trovato a ottobre, un mese e mezzo dopo la sua scomparsa, in un pozzo nelle campagne di Avetrana e a indicarlo fu proprio Michele, nel corso dell'interrogatorio in cui si attribuì la responsabilità del delitto. Sono stati invece assolti tre avvocati che avevano chiesto il rito abbreviato, Luca Mongelli, Emilia Velletri e Francesco De Cristoforo. Il 10 gennaio si trarà la prima udienza del processo. Grazie a tutti.